ciao ragazzi sono tablac95 benvenuti in un nuovo video questo qui è un video a caso su questo giochino che serviranno pochissime cose il vostro computer un sito che vi metterò in descrizione e il vostro telefono l'ho trovato ora su l'ho fatto vedere in televisione e ora vi spiegherò come funziona ci si può giocare anche con più di un giocatore allora dal vostro computer serve motore tipo chrome o failfox ora sto andando con failfox e dal vostro telefono scusate un secondo mi serve per vedere qui mi basterà anche qui un chrome aspetta un chrome o comunque sia anche un failfox uguale prima però dobbiamo selezionare una delle due dei tre giochini tipo corri corri lui ci chiederà di sincronizzare per un giocatore o più giocatori per ora siamo uno perché non ho altri mezzi vedrete che ci chiede configurare il nostro telefono al computer allora noi abbiamo già il nostro telefono su chrome facendo sto facendo tipo failfox e chrome e facciamo su continua e ci chiederà di inserire dal nostro telefono questo codice aspetta che non vedo una mazza aspettate ora magari non si vede però sto scrivendo cliccando g.co super ce l'avevo già ecco era il telefono che mi rompe l'anima e dovreste vedere che mi sta caricando non si vede un caspita però va bene uguale ecco ora si vede leggermente meglio e devo mettere il codice che c'è lì allora b minuscola possibilmente b w a z a b cambia per ogni giocatore e ce lo dovrebbe aver sincronizzato sincronizza ecco qua ecco qui che ci ha detto che ha trovato il gioino e ora no aspetta via sempre qua e ci dice che non serve il mouse ora vi apro un attimo questo qui perchè se no è merda potete vedere che sto aspettate beh mi sto selezionando i vari personaggi dal dal mio telefono quindi non mi sto prendendo per il culo ok ora siccome ci vuole tenere la gioia in mano proviamo a farci una partitina se riesco a sistemare la telecamera magari beh il mouse non sa il contratto te lo devo dire ho capito un attimo allora noi in questo caso prendiamo che si pia la bistecca beh lui ci spiegherà come giocare vabbè noi infatti da te la facciamo continua vai e se gioa vai io sono la bistecca guarda come corre guarda come corre scattante ovviamente potete giocarci anche con i vostri amici ve l'ho fatto vedere prima c'è un cerotto che mi sta inseguendo e nulla muoviti 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 si la bistecca vince sempre ora prendiamo un pochino tutti e tre giochi tanto per e mi sta che aspettiamo che arrivi anche l'ultimo arrivato ho intenzione di fare anche una nuova playlist quella dei giochi gratis che fanno cioè i free weekend che fanno su steam ora dal telefono mi fa vedere non so se si vede ora c'è il telefono dove sei non si vede un tubo però vabbè dal telefono mi fa rivedere tutti e tre i giochi per ora che si possono fare ora prendiamo un po' il nuoto ma ho sbagliato inizio a gara basta ok vabbè andiamo avanti con la bistecca allora dai mo si corre cioè si nuota una bistecca che nuota un pentolone e una banana dai 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 qui però ci ho perso poi appena posso ovviamente ci farò anche un gameplay di cooperativa con qualcuno tanto per provare dai 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 che ci si fa non si può vedere la banana che è nuota a merda il pentolone mi sta raggiungendo dai vai sei vinto sei comunque un pesce non si prende tu oggi le pesce cioè sono una bistecca comunque vedi che ci ho già preso 5 minuti sei ora è un pochino ripetitivo però cioè perché il percorso è sempre a esse di stronzo e nulla sei vinto potete condividere ovviamente anche su facebook su twitter su google plus qui la ciambella che si sta mangiando proviamo con la bicicletta ora cambiamo personaggio dai si piglia no sbagliato vabbè dovete appicciare andiamo con la bicicletta aspetta vai andiamo su bici come va il coso pedala dai dai vai questa volta si è presa nel culo però secondo ci arrivo non me ne frega niente dai 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 muoviti si ma incredibile la meraviglia ero dinamico certo sono rimasto fermo all'inizio vabbè sempre l'ultimo arrivato vabbè vabbè nulla questo qui era un giochino aspetta se torniamo un attimo indietro questo questo qui è un esperimento di google si di chrome per vedere come va questa cosa per fare noi tutti i giochini l'hanno appunto detto in televisione spero che sia stato di vostro gradimento mettete mi piace magari provateci anche voi ve lo consiglio ciao a tutti e alla prossima ciao ciao ragazzi